Giustamente ogni qualvolta finisce un anno nuovo si dice sempre anno nuovo vita nuova si cambierà nell'anno nuovo invece no il sottoscritto comunque quella voglia anche abbastanza importante di buttarli in cacciara già buona grazia che questo video avrei potuto farlo uscire ieri solo che immagino no giustamente un pochino tutti quanti ancora in botta dall'ultimo dell'anno che hanno passato domenica tra le altre cose 1 gennaio con la bava la bocca sul divano e noi ok la stragrande maggioranza di noi quantomeno ha avuto la bava la bocca solamente nella giornata di ieri e quindi perché non iniziare l'anno con un video che parla di chi la bava la bocca ce l'ha anche i restanti 364 perché è uscita una combo abbastanza importante che quindi mi ha spinto all'idea di fare questo video qui e prima di entrare nel merito ragazzuoli come al solito vi invito a lasciare un mi piace e di iscrivervi qualora ancora non l'abbiate fatto perché è sempre importante anche nel 2023 queste abitudini queste tradizioni non sono cambiate e non devono cambiare e nello specifico qual è la combo a cui io mi riferisco beh innanzitutto il primo articolo è quello di saviano dove comunque è sempre giusto ricordare che di fatto dopo domani torna il campionato torna la juventus e come torna la juventus tornano giustamente tutte le altre squadre ed è legittimo che si dia la possibilità a tutti i tifosi di tutte le squadre di parlare in vista della ripresa del campionato e per quanto riguarda appunto saviano l'unica vera grande speranza è una sola non quella magari di sperare di vedere di nuovo di continuare a vedere un napoli sulla falsa riga di quello visto nella prima parte di stagione magari riuscendo a fare ancora meglio no per saviano la speranza è che non insorgano con una discreta prepotenza tra le altre cose i poteri forti in modo tale da non consentire al napoli di vincere lo scudetto quindi da questo punto di vista già la linea è particolarmente chiara se il napoli vincerà e perché sarà riuscito ad essere ancor più forte dei poteri forti se dovesse malauguratamente per loro perderlo non sarà ovviamente per motivi di campo ma perché appunto sono entrati in azione i poteri forti a prescindere da quello che poi succederà sul campo nelle ultime partite del girone d'andata e per l'intero girone di ritorno e a grandi linee siamo abituati un pochino tutti a questo modo di ragionare a certe altezze e quindi tutti quanti probabilmente siamo stupiti davvero fino a una certa e a proposito di altezze proprio qualche ora dopo questo articolo di Saviano di cui abbiamo appena parlato giustamente chi è che entra a gamba tesa per in un qualche modo rafforzare la tesi del giornalista partenopeo il nostro pistacchio perché giustamente comunque nel momento in cui a Mediaset non c'entri più neanche per sbaglio e quei pochi inviti si hanno soprattutto dalle trasmissioni napoletane giustamente nel momento in cui c'è la possibilità di fare la sleccatina di strizzare l'occhio come per dire per cortesia invitatemi che sono un pochino a secco giustamente si va a condividere comunque un articolo abbastanza importante che è sempre sulla falsariga dei poteri forti del come mai vincono sempre i soliti proprio perché all'interno di un articolo condiviso da Pistocchi assolutamente imparziale oltre che Pistocchi ovviamente anche il sito che ha pubblicato l'articolo il napolista si parla di squadre del nord che solitamente vincono sempre loro in un modo o nell'altro mentre invece purine le squadre del sud in un qualche modo anche quando ci vanno vicino manca sempre il centesimo per fare l'euro questo magari a causa di tanti fattori come magari anche spesso e volentieri dei fattori esterni che spingono in un qualche modo una determinata squadra puntualmente del nord verso il titolo poi magari pensiamo anche a lanci di monetine test di doping puntualmente saltati che hanno consentito ad una determinata squadra di vincere degli scudetti ma questo ovviamente è un altro paio di mani che adesso non è che noi ci dobbiamo sempre ricordare proprio tutto 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 ragazzuoli per carità di dio e mi ha fatto sorridere molto questa cosa non tanto l'articolo in sé che va bene tutto quanto ma proprio l'idea che un uomo che per 30 anni è stato al servizio di mediaset proprietà di uno che aveva anche una squadra abbastanza importante del nord nel momento in cui è lì per chiudere baracche burattini ma ancora non se la sente si ritrova in un qualche modo costretto dopo quelle che sono state le parole di sabiano a condividere un articolo del napolista è meraviglioso non mi sento onestamente di aggiungere altro è semplicemente meraviglioso poi noi potremmo stare qui a dire del perché vincono sempre le stesse quanto meno nella stragrande maggioranza dei casi banalmente qui c'è anche poco no da creare ipotesi e quant'altro quanto meno dal mio punto di vista dove ci sono i soldi è molto più probabile costruire squadre forti che con una probabilità maggiore riescono a portarti dei trofei perché il napolista ha fatto l'esempio delle squadre del nord e le squadre del sud se andiamo all'estero in germania dov'è che si vince a monaco di baviera chissà come mai in spagna dov'è che si vince barcellona madrid che magari sono quelle zone economicamente più importanti diciamo e che magari attirano anche degli investitori come magari anche nel calcio un altro esempio potrebbe arrivare direttamente da parigi l'inghilterra in questo discorso non fa testo perché lì ovunque tu vada c'è una barca di soldi soprattutto dal punto di vista calcistico ovviamente è di questo che si sta parlando a me faceva proprio ridere la combo di per sé senza entrare in discorsi geopolitici legati al calcio che indubbiamente a modo loro sono dannatamente interessanti il mio tema era di tutt'altro genere era incentrato ad una combo mica da ridere che è andato in scena l'ultimo giorno dell'anno e per loro sarà anno nuovo vita nuova beh presumibilmente no come schiumavano prima schiumeranno anche dopo a prescindere da tutto quanto ma è di sempre bello è sempre c'è certe abitudini è giusto e doveroso che non cambino e vedere le loro sempre uguali beh a me fa dannatamente piacere e onestamente è proprio bellissimo così e dal mio punto di vista non si poteva iniziare l'anno in modo migliore dal mio voi fatemi sapere io vi auguro per l'ennesima volta un felice 2023 speriamo che lo sia da tifosi della juventus speriamo ne abbiamo bisogno ne abbiamo dannatamente bisogno quindi speriamo io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza juve grazie a tutti grazie a tutti